Sicuramente a volte non è, cioè mentre vai a scavare, a cercare nell'interno del personaggio, diciamo, che vai a cercare delle robe tue che non sono proprio comode. Però è anche interessante, insomma, che scopri cose di te che magari è bello di farli a torno, cercare di capire gli altri, anche le cose più importanti a te. Esatto. Più difficili sono, più interessanti. Più affinco, sì. Concorro. Perché? Perché è una tradizione dei Nativi d'America. È una cosa storica. È una psicologia che è stato scritto in questa maniera. Il crocifisso, la croce, sono quelle cose ataviche. Il corpo proprio rappresenta la morte. La morte, ma anche la rinascita. È un passaggio. Bella. Io lo farei al contrario, cioè prima finisce l'odio e poi inizia l'amore. Inizia l'amore proprio quando riesci ad affrontare l'odio e quindi al rischio si riscioglie. Quella cosa che c'è, perché l'hai affrontata e l'hai capito, wow, amore. È aprirsi all'altro. Cioè che tutti i personaggi sono quattro solitudini che insieme riescono a... Per me il problema è capire quando è l'amore e quando è l'odio. Esatto, perché è un sentimento grande. Perché a volte si mischiano e non è facile. Che se era sprioli. Che per me impi Benign tio non è capire quando è un movimento... Per me impi Benign Mutter